Ti piacerebbe riuscire a fare questo? Continua a guardare e ti insegno come fare. Benvenuti di nuovo, se ti sei perso la lezione precedente ti lascio il link nella descrizione, non te la perdere mi raccomando. Oggi inizieremo ad entrarci nel mondo del chiaroscuro e devi sapere che quando aggiungi luci e ombre ai tuoi disegni puoi dare nuova vita ai tuoi soggetti. Questo perché crei l'illusione della forma e della profondità. Puoi farsi infatti che un soggetto che prima era piatto all'improvviso prenda vita. Tutto grazie alle luci e le ombre. Vorrei ottenere questo effetto. Però per ottenere questo effetto dovrai allenarti e praticare bene queste tre cose. Uno, il controllo della pressione della matita sul foglio. Due, come sfumare in modo morbido. E la cosa più importante che è come si comporta la luce. Oggi ti aiuterò a capire meglio questi tre aspetti. Iniziamo! Allora, prima di tutto impariamo come possiamo sfumare in maniera morbida. Il mio primo consiglio è di provare a eliminare i vuoti fra tutte le tue linee mentre mantieni un buon controllo della pressione. È difficile però eliminare i vuoti quando la tua matita è troppo appuntita, come la mia in questo caso. Vi faccio vedere perché. Quando la nostra matita è troppo appuntita è molto difficile riuscire a riempire tutti gli spazi nel nostro tratto, nel nostro foglio. Quello che possiamo fare è usare una matita che è già alla punta un pochino consumata, come per esempio già la mia. Ora se io continuo per esempio a... vedete? Quindi cosa sto facendo? Io sto appiattendo una parte della punta della mia matita in modo che il tratto sia molto più riempitivo. Non so se si dice, se si dica. Si riempie di più. Notate proprio la differenza. Punta appuntita, punta appiattita. Quello che puoi anche fare è usare la tua matita di lato così che le tue linee saranno anche più spesse. In questo modo possiamo prenderla o così o così quando noi usiamo la nostra matita di lato si appiattisce la punta automaticamente e questo è l'effetto che riusciamo ad avere. Linee molto più unite fra loro e guardate che bella sfumatura che possiamo creare. Ecco qua. Anche perché per esempio questa tecnica è ottima se vogliamo riempire una parte più ampia del foglio. Quindi teniamo il nostro matita in questo modo, muoviamo polso, muoviamo braccio, addirittura riusciamo a muovere anche la schiena, una parte della spalla e riempiamo parti ampie del nostro foglio con più facilità che se stessimo usando la matita, impugnandola più vicino alla punta e muovendo solo il polso. Quindi che cosa abbiamo imparato? Che se vogliamo sfumare parti ampie del nostro foglio non ci conviene tenere la nostra matita vicino alla punta in posizione di scrittura ma invece tenerla in posizione di disegno cioè nella parte centrale sarà più facile. Per molti principianti sfumare e usare il chiaroscuro è spesso come lanciare una moneta per aria. Ho sfumato quest'ombra nel modo giusto? Chi lo sa. Imparando qualche principio basico sulle luci potrai smettere di indovinare e sapere dove vanno esattamente luci e ombre. Saperlo gioca un ruolo cruciale su quanto sembrerà poi realistico il tuo disegno. Userò una sfera per farvi capire questi principi basici sulla luce perché è più semplice da capire su una forma semplice che su altri soggetti più complicati più dettagliati come per esempio una testa un dettaglio della testa o di una faccia per esempio un naso un occhio giusto per fare qualche esempio. Allora tutti sappiamo più o meno come funziona la luce vero? Da un lato abbiamo il lato luminoso illuminato dalla lampada e dall'altro le ombre. Ora entriamo in dettaglio perché forse quello che non sai è che l'ombra svanisce con il tempo non è costante. Lo so può sembrare strano ma è vero però perché? E così per colpa della luce riflessa la luce rimbalza sulle superfici ed è per quello che la luce illumina una parte di queste ombre. Un'altra cosa interessante da sapere è che la luce prende il colore della superficie sopra cui rimbalza quindi per esempio se noi abbiamo un oggetto blu vicino alla sfera probabilmente la sfera diventerà un pochino blu se la luce è abbastanza forte. L'ultimo punto importante da sapere è che la luce non sempre a bordinetti ma quasi sempre sono graduali sfumati. Alla prossima ed ecco qua la nostra sfera quindi possiamo dividere la nostra sfera principalmente in due zone il lato luminoso e il lato in ombra successivamente possiamo iniziare a vedere che abbiamo una parte di luce riflessa chiamata anche illuminazione di rimbalzo provocata dalla luce che rimbalza sulla superficie del tavolo e ritorna sulla sfera la luce può riflettersi su molti tipi di superfici ma ha difficoltà a rimbalzare in spazi ristretti come nello spazio in cui la sfera tocca il tavolo è chiamata l'ombra di occlusione poi invece abbiamo l'ombra proiettata che si crea quando una forma blocca la luce da raggiungere un'altra forma poi abbiamo la luce la luce centrale che questa parte di sopra e gli highlight o zone di massima luce accompagniamo adesso a disegnare un oggetto lo disegneremo e lo sfumeremo insieme cercando di capire come la luce colpisce l'oggetto creiamo prima di tutto la superficie sul quale è poggetto l'oggetto in questo caso disegneremo una mela abbiamo imparato a disegnare la mela qualche lezione fa quindi più o meno dovreste avere dovreste ricordarvi abbastanza bene non vogliamo creare un soggetto perfetto cerchiamo solo di fare il meglio che possiamo molto bene adesso in questo caso la luce arriva da il lato sinistro quindi io traccerò due linee rette possiamo anche tracciarle se volete con il righello io non ce l'ho alla mano ma se volete lo potete fare questa è la nostra luce quindi adesso grazie a queste due linee possiamo subito andare a trovare la nostra ombra proiettata che è questa qua e anche la nostra ombra d'occlusione che è questa qua sotto l'ombra d'occlusione sarà più scura perché proprio il punto in cui la luce non riesce ad arrivare mentre che l'ombra proiettata sarà più chiara notate come sto tenendo la mia matita in mezzo di lato in modo che io possa avere un sfumato morbido e possa far incontrare tutte le mie linee limitate il mio tratto senza lasciare vuoti in mezzo molto bene abbiamo la nostra ombra adesso andiamo a vedere come gioca la luce abbiamo la nostra luce diretta che lascia praticamente questo spazio direi più o meno fino qua chiaro poi abbiamo la nostra luce riflessa ricordate luce riflessa arriva colpisce il tavolo e poi rimbalza quindi sia qui colpisce il tavolo e rimbalza che qui avremo un'ombra più chiara perché la luce si riflette e quindi l'ombra non sarà mai scurissima in questo modo così si capisce meglio quindi cosa facciamo la nostra ombra più scura sarà sicuramente questa parte qua quindi cominciamo a scurire questa parte io inizio creando una striscia nera sovrappongo linee cerco di non lasciare vuoti fra una linea e l'altra questa è la nostra ombra centrale quella più scura di tutti e poi vado alleggerendo il mio tratto verso il basso vedete come le mie linee continuano ad essere appiccicate quasi non ci sono vuoti a volte sì ma li posso andare a riempire io andrei a scurire ancora un pochino di più facendo più pressione con la matita sul foglio perché questa parte ho bisogno che sia più scura l'ombra centrale si deve proprio distinguere quindi faccio un pochino di pressione notate come non sto assolutamente cambiando posizione della mano mentre impugno la mia matita perché ho bisogno sempre di stare usando questa parte della punta che ormai è appiattita e quindi mi permette di avere questo tratto senza vuoti questo tratto omogeneo non so se iniziate a vedere come si sta formando morbidamente la mia sfumatura vedendo possiamo coprire un po' questa parte qua per dare più un senso di rotondità anche qui vedete che bello quindi abbiamo riempito qua sotto continuiamo a sfumare io mi andrò ancora un pochino più pesante su questa parte proprio bisogno che risalti qui cerchiamo di fondere in modo omogeneo le due ombre quella più scura e quella più chiara dove c'è l'ombra centrale che è questa qua e l'ombra riflessa non riflessa però l'ombra che è stata colpita dalla luce riflessa in questa tappa del processo di sfumare un oggetto se noi ci facciamo prendere dalla fretta, dall'impazienza e ci viene voglia di magari andare più velocemente muovere la mano, muovere la matita possiamo arrivare a rovinare il nostro lavoro che abbiamo fatto finora ora ovviamente fare errori come sempre mi piace ricalcare fare errori è necessario per crescere per evolvere, per imparare quindi nel caso che succede non c'è problema si può fare di nuovo si può ridisegnare e riprovare e però quello di cui voglio parlare oggi è come il disegno ci aiuti a stare nel momento presente ma anche e soprattutto a non avere fretta a goderci il momento a realmente capire quello che stiamo facendo e capire che lo stiamo facendo per avere un risultato dopo molto bene adesso io andrò a riempire anche questa parte di sopra perché comunque anche se la luce colpisce la parte superiore questa è la luce centrale non è mai completamente bianca quindi lo andrò a riempire molto molto leggera leggeramente non esiste molto molto con un tratto veramente molto morbido così questa parte di sopra deve comunque essere più chiara di questa parte di sotto quindi andrò a scurire ancora un po' qui adesso che abbiamo praticamente è finito a me piace sempre ricalcare un pochino le parti più scure quindi abbiamo la nostra ombra di occlusione che è sempre la più scura di tutte poi la nostra ombra proiettata in questo processo sto usando una matita 2b 4b potete usare anche più pesanti tipo la 6b più morbide per darvi un push in più una spinta in più nelle parti più scure per esempio se io volessi scurire ancora un po' di più quest'ombra farla diventare più scura più nera uso una matita più morbida che mi dà proprio quella capacità di appesantire l'ombra e quindi andrò a scurire ancora un po' di più e quindi andrò a scurire ancora un po' di più grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.